Matrix si collega bene alla corsa del topo, ovvero uno schema mentale che ci viene insegnato sin da piccoli e che viene seguito inconsciamente dalla maggior parte delle persone, dando così origine ad uno stile di vita complicato. In pratica io passavo il tempo a cercare lavoro perché mi serviva per campare, ma quando lo trovavo mi volevo soltanto ammazzare piuttosto che annacce. Personalmente sto tentando di uscirne, cambiando il mio punto di vista verso un qualcosa di migliore.